La strategia di aeroporti Roma che passa per un aeroporto sostenibile green passa anche per un economy green, trovare finanziamenti e fondi green? Assolutamente sì, lo sforzo sulla sostenibilità è uno sforzo impegnativo, non è gratis, costa moltissime risorse, non solo gestionali, manageriali ma anche finanziari, quindi vuol dire grandissimo impegno finanziario su progettualità green. Bene, noi vogliamo associare a questa strategia di impieghi in progettualità green anche una strategia di reperimento di fonti finanziarie in materia green e questo è il motivo per cui già da novembre scorso abbiamo varato una politica di green financing con il nostro bond inaugurale Green Bond per 300 milioni interamente destinato in progettualità green e per questo motivo abbiamo inteso insistere su questa strada con un sustainability link bond, quindi un bond che collega direttamente il proprio costo del debito all'ottenimento o non ottenimento di obiettivi diciamo in materia proprio di impatto, riduzione dell'impatto ambientale. Questa è una crisi severissima ma è anche un momento, un'opportunità di trasformazione profonda, la nostra strategia si muove su tre binari quindi conferma dell'eccellenza quanto a servizi e a sicurezza nel volo, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il settore aeroportuale europeo si dà come obiettivo al 2050 di ottenere un annullamento totale delle proprie emissioni di gas serra, noi intendiamo raggiungere questo obiettivo nell'arco di nove anni, quindi entro il 2030 emissioni annullate in aeroporto di Roma.